Prima serie, vediamo se tale sarà una giornata favorita al ragazzo del esercito scotte giovane che tornerà in sesta corsia, gli altri 5 saranno... Sesta Simonelli, in terza Moretti, già proprio quest'ultimo ma esce con i Girotti Girotti e poi dovrebbe essere Roma Qualcitosa con Bigliotti 10 e 84, nega con...